Mentre Cali ha parlato di colpe limitate del bancario, allora io le ho portato, se la magistratura me lo chiede, lo darò anche alla magistratura che sta indagando, ho portato quelle che sono le disposizioni che via email arrivavano in quel periodo ai lavoratori di una di queste banche, che non voglio citare, va bene? Adesso inquadriamo la mail. Allora, la prima mail che arrivava parlava che era un investimento per tutti e nella caratteristica della pubblicità del prodotto, del diamante, veniva scritto che è alla portata di qualsiasi cliente ed è quindi accessibile, è consigliato non superare una porzione limitata del portafoglio. Qui già c'è un primo indirizzo. Poi dicevano, è un bene liquidabile ovunque, è un bene sovranazionale e quanto tale è possibile... Cioè queste erano le dritte per i dipendenti? Esatto, no, questi erano gli ordini che le banche e le direzioni generali davano ai dipendenti per vendere i diamanti. Poi dicevano, questo è un altro titolo farlocco, fasullo, i titoli di Stato, Rinaldi, non sono un vero bene rifugio in questo scenario, quale alternative considerare? E qui parlavano, nelle spiegazioni che venivano date ai dipendenti, parlavano, la quotazione dei diamanti segue un trend stabilimento a rialzo e poi dicevano che il diamante rappresenta un patrimonio durevole di pregio e rappresenta una valida e migliore alternativa per diversificare il portafoglio. C'è solo palle. Sì, quindi in sostanza le cose dicevano che lo mettevano allo stesso livello nel concetto di diversificare il portafoglio, che ne so, delle obbligazioni, dei progetti assicurativi, delle azioni. Poi diceva, e questo è clamoroso, l'investimento in diamanti rappresenta al tempo stesso un'opportunità di diversificazione del portafoglio del cliente, una fonte di marginità per la banca. Dulcis in fundo, questo è un'indicazione, una disposizione che una banca dava ai propri dipendenti, ogni sera dovevano rendere conto di quanti diamanti avevano venduto e se questi fossero stati di numido inferiore partiva la censura. Tant'è vero che in questo documento dice se non avete effettuato ordini nel mese, aperta e chiusa la parentesi male, non è necessario che mi rispondiate. Allora, la vendita, la sintesi di tutto qual è? Che siamo passati dalla figura del bancario segnalatore alla figura del bancario venditore, che è un passo enorme, no? E poi veniva posto sullo stesso livello di altri prodotti finanziari. E questa è una vergogna, quindi non parlerei di vendita di diamanti, ma di truffa nella vendita di diamanti.